allora ragazzi buongiorno allora qui adesso stiamo applicando celestia questo qui celeste allora precedentemente abbiamo dato un fondo nuova luce in tinta questo alla fine è uno smile come se fosse uno smile allora abbiamo due modi per applicare questo materiale qui o lo applichiamo guardate a spatola normale incrociato un po' incrociato o solo una volta che lo applichiamo possiamo applicarlo normalmente guardate questo pezzo qua lo applichiamo normalmente facciamo un pezzo dopo con il nostro cartazzo come facciamo vedete stiamo a dargli questo senso qua in modo che è come se ci fosse una tempesta sola per malicare